L'Università di Teramo ha lavoro per trovare una soluzione alternativa per il trasporto degli studenti dal centro al campus di Costi Sant'Agostino. Questione è quella della carenza dei trasporti pubblici a Nosa che rappresenta uno dei problemi dell'Ateneo di Teramo, da quando l'attività è stata trasferita. L'idea su cui il Rettore Dino Mastrocola sta lavorando è quella di mettere a disposizione degli studenti minicarre e biciclette elettriche da prendere a noleggio per raggiungere l'Ateneo. È un mio vecchio sogno che sto cercando di portare avanti anche con dei privati per fornire ai nostri studenti un servizio innovativo, ecologico, sostenibile. L'idea potrebbe essere quella di bici elettriche o microcar elettriche con una stazione qui a Colleparco e ovviamente delle stazioni anche in città. In modo tale da consentire agli studenti di muoversi anche in orari in cui il trasporto urbano non può coprire tutte le esigenze. Un modo veloce spendendo più o meno quanto si spenderebbe per un autobus, con partenza dai punti strategici della città, la stazione ferroviaria, l'autostazione di San Francesco e Piazza Garibaldi. Noi abbiamo già la stazione con due colonnine di ricarica qui a Colleparco, ma l'elemento fondamentale poi sono le stazioni in città. Insomma, quindi la possibilità, ecco, quindi si tratta ancora una volta di un accordo che ovviamente vede comune, provincia, ancora una volta regione, perché poi di fatto ricordiamoci che è la regione che determina i chilometri a disposizione per ogni comune, per i trasporti pubblici. Si tratta di coinvolgere aziende, persone di buona volontà, ma allo stesso tempo tutta la comunità deve fare uno sforzo per creare le condizioni per poterlo realizzare.